po povera povera veroni calario la magistratura e non le ha dato ragioni io la notizia la leggo ora sul fatto quotidiano e così come la notizia l'ho letta io ve la metto come l'in riassunto di questo video così voi tutti potete fare le vostre personali considerazioni beh cari amici povera veronica lario povera veronica lario perché quando avevano aveva divorziato con silvio berlusconi nella magistratura aveva stabilito che silvio berlusconi le doveva passare 1,4 milioni di euro al mese 1,4 milioni di euro al mese però veronica lario non si era ritenuta soddisfatta e pretendeva di più per cui la causa è andata avanti e ora invece la magistratura in ultima istanza e ha detto che no no ha ragione silvio berlusconi e che la povera veronica lario deve restituire a silvio berlusconi 43 milioni di euro va bene cari amici è molto triste perché veronica lario veronica lario aveva diritto all'assegno di mantenimento perché quando si era sposata con silvio berlusconi aveva abbandonato la sua carriera di attrice per dedicarsi al marito e ai figli poi è sopravvenuto il divorzio e allora veronica lario ha chiesto di venire compensata per avere rinunciato alla sua carriera cinematografica e anche di venire compensata per tutto ciò che aveva fatto a favore di silvio berlusconi e ovviamente dei figlioli e adesso la faccenda è cruda è chiusa è chiusa la faccenda io penso che veronica veronica lario sia tanto triste sia tanto triste deve accontentarsi di 1,4 milioni di euro al mese capito e beh non si può avere tutto questo mondo è vero cari amici che non si può avere tutto questo mondo beh insomma cari amici io qua ho detto la mia adesso voi dite liberamente la vostra perché io la notiziola ve la metto come linea di assunto di questo video ok cari a tutti tanti cari saluti da Serafino Mazzoni ok ok ok